Dal 2006 l'azienda ospedaliera Brozu e il CRS4 sperimentano un sistema di telemedicina per il reparto di cardiologia pediatrica. Il caso clinico di partenza è quello di un bambino appena nato con presunti problemi polmonari che necessita di una diagnosi immediata da parte di uno specialista che in quel momento non si trova nell'ospedale. Normalmente il bambino verrebbe spostato in un'altra sede con il rischio di aggravare la sua salute oppure si dovrebbe aspettare lo specialista che magari si trova molto lontano e si perderebbe del tempo prezioso. Per affrontare questo problema si è sviluppato un sistema che permette una diagnosi a distanza. L'obiettivo è far collaborare presidi sanitari geograficamente distanti effettuando un esame diagnostico. Lo specialista visualizza su uno schermo l'immagine dell'ecografia e la ripresa in diretta del paziente sotto esame e in contemporanea ha la possibilità di dare indicazione all'ecografista su come e dove posizionare la sonda. In questo modo il medico può analizzare i dati acquisiti e produrre un consulto specialistico immediato e valutare in maniera molto rapida ed efficace dei casi potenzialmente gravi che potrebbero necessitare di immediata ospedalizzazione nelle strutture specialistiche della cardiologia pediatrica. Grazie per la visione!